Siamo al momento dell'approfondimento sul conflitto in corso tra Russia e Ucraina e questa sera ho il piacere di avere con noi Roberto Quaglia, scrittore e critico letterario. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Dunque, innanzitutto una buona notizia, quella di poche ore fa, insomma, che il Parlamento tedesco ha votato per il no all'invio di armi in Ucraina. Come giudica questa decisione? Beh, è molto positiva, promettente ed è per certi versi una sorta di urlo disperato dei tedeschi sul fatto che il re sia nudo, perché bisogna considerare che a livello ufficiale i tedeschi sulla distruzione del loro gasdotto non si sono espressi contro quelli che sono i più probabili colpevoli. Anzi, però poi a livello invece di rappresentanza democratica i parlamentari hanno espresso così la loro opinione. Ecco, è stato distrutto il gas stream e come reazione non hanno votato, hanno votato contro il finanziamento di un aumento delle spese militari per l'Ucraina. Ecco, a proposito proprio del gasdotto e dell'incidente che c'è stato, pare che si voglia attivare un'altra linea, insomma, di questo gasdotto. Ecco, questo è un elemento che non è stato ancora menzionato molto dalla stampa mainstream, però Gazprom proprio adesso è venuta fuori con la dichiarazione che il quarto tubo, cioè quindi uno dei due tubi del Nord Stream 2, quello più recente, non sarebbe danneggiato. E dopo aver verificato effettivamente che esso sia integro e non danneggiato, volendo, si potrebbe spedire il gas, iniziare a fornire il gas attraverso questo ultimo gasdotto supersite. Chiaramente i tedeschi dovrebbero a questo punto concedere l'autorizzazione che fino adesso, su pressione d'oltre o cena, avevano vietato. Ecco, anche questo tipo di sviluppo ce la dice Luca su chi siano le vittime, chi siano i colpevoli di questo attentato, perché i russi stanno cercando una soluzione al problema e forse avrebbero trovato una soluzione parziale, se appunto il quarto tubo si rivela integro e viene attivato, mentre dall'altra parte, d'oltre oceano, proprio Blinken, il portavoce americano, ha detto che è una grandissima opportunità il fatto che sia scoppiato il gasdotto per gli Stati Uniti, perché adesso gli Stati Uniti sono il primo fornitore di gas dell'Europa. Quindi in America si festeggiava per questo strano caso di cui essi poi dichiarano di non essere assolutamente responsabili, mentre i responsabili colpevoli disegnati, i russi, stanno cercando una soluzione al problema. Ecco, questo per dire come la narrazione si scontri con un'analisi dei fatti. Non si cita molto spesso invece quello che è il danno ambientale in merito a questo incidente? Sì, è un altro interessante problema. Vorrei sapere adesso come mai non si interpella più Greta, che ci avvisa sui problemi dell'effetto sera, visto che sono state rilasciate tantissime tonnellate di gas, che adesso hanno formato una nube che sta girando l'Europa, pare che ora stia proprio passando sopra l'Italia. Quindi il danno ambientale è veramente immenso, per poi non parlare di tutte le specie ittiche, che evidentemente saranno state distrutte da questa esplosione. Se i responsabili, come sembra, sono da cercarsi ad occidente, a questo punto sarebbe interessante di sentire l'opinione di Greta, visto che ci fa sempre la morale. Ecco, si sente più spesso parlare di armi nucleari? Si tratta solo di minacce o c'è altro? Beh, si spera che si tratti di minacce o più che altro di dissuasione. Poi tutto dipende da quello che avviene sul campo. C'è stata la dichiarazione adesso di Kadirov, il capo ceceno, che ha invocato sull'onda dell'emozione l'uso di armi nucleari tattiche in Ucraina, ma è stato in qualche modo rimesso un pochettino al suo posto dal portavoce Peskov, che ha dichiarato, beh, capiamo la sua reazione emotiva, però noi non procediamo emotivamente e la dottrina dell'uso di nucleari da parte della Russia rimane quella di prima, quindi solo in casi veramente estremi di difesa del territorio russo, qualora ne vada della sopravvivenza del territorio russo. Quindi ecco, non è che sia sufficiente che gli ucraini sparino su quello che i russi considerano proprio territorio per attivare questa opzione. Quindi direi che per il momento dovremmo essere ancora in zona sicura. Comunque per il futuro potrebbe tutto peggiorare. Speriamo di no, chiaramente. Grazie a Roberto Quaglia per essere stato con noi. Alla prossima. Un saluto a tutti. Ed ora spazio alle previsioni del tempo.